Buongiorno, mentre Ennio annaffa il pane degli olivi, prima di piantarli perché c'è molta tramontana in questi giorni di vista seccano tutto, io ho preparato il mitico pasqualino per caricarli e portarli nell'oliveta, cioè nella nuova oliveta. Però un pochino bagniamo il pane, cioè bagniamo questo qua, il vaso, questo qua lo chiamiamo pane, ecco mi sono anche bagnato, perfetto, a dopo. Sto proseguendo la piantumazione degli olivi, come puoi vedere ho già fissato tre filari, in modo che appena arriva Mirko, spero presto perché ho fame, vedete uno con tutti gli olivi già posizionati, con le buche fatte con questo strumento, non so se lo conosce, questa è una vanga, e quindi sono già liberati dai tutori, tutto a modino, quando arriva è tutto pronto per piantumare, finisco il quarto filare, bene sono tutti in terra, e questi invece sono quelli piantati ieri, questi qua, ora si sta alzando un pochino di libeccia, speriamo bene. Grazie a tutti! Grazie.